Il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, fin dall'inizio del suo insediamento, ha instaurato un dialogo profico con il Movimento 5 Stelle, soprattutto per quanto riguarda le politiche ambientali ed il ciclo dei rifiuti. Quel dialogo prosegue portando avanti con forza un progetto per la realizzazione di un centro di riciclo. Il costo dell'opera è di circa 6 milioni di euro, mentre l'utile annuo è stimato in circa 2 milioni di euro. Dunque un'attività economica vera e propria ed una grande risorsa per la città, progettata per un'utenza di 140.000 persone. Il centro riciclo potrebbe essere finanziato dalla regione o in alternativa si potrebbe considerare l'opportunità di bandire una gara e trovare così un concessionario di servizio che potrebbe occuparsi dell'impianto. Inviterò a breve l'assessore regionale pugliano ad un confronto per capire se è possibile ottenere un finanziamento oppure attraverso una procedura per l'individuazione di un concessionario di servizio che possa fare l'investimento e poi gestire per un periodo di anni il centro in modo tale da farci chiudere il ciclo dei rifiuti attraverso appunto un sistema di differenziata a monte con il sistema porta a porta a spinto e poi con un'attività di riciclo a valle dove il meccanismo diventa non solo virtuoso ma anche economicamente conveniente. In perfetta sintonia con le proposte del sindaco i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che auspicano la discesa in campo della regione. Contiamo che la regione in questo possa individuare in Cosenza, lo dice anche il protocollo di intesa che è stato firmato, una sorta di centro di sperimentazione in modo da verificare il funzionamento e la tenuta di questo sistema e poi espanderlo in tutta quanta la regione perché anche la Comunità Europea ci dice che il riciclo è il futuro, non più l'incenerimento.